Stina ha fatto il segno vista house e sarà wow è bella vista però che bella quella cascata quando vedo le cascate mi scappa da pigiare non so perché a te no questa è una bella cascata wow sono bagnate c'è cascata che ti casca in testa la Bridal Vail Pole sono due salti, uno, due cos'è questa? una bacchina una bacchina? una bacchina c'è tutte le goccioline se tieni la bocca aperta bevi un po' no ma andro adesso muuul tu noma muuul tu noma muuul tu noma muuul tu noma muuul no ma forse questa è una bella volta eh la muuul no ma forse bella volta siamo nell'acqua Celestina è bella siamo nell'acqua un montagorcio guess what we're gonna lose a drone very soon drone is ready bye bye drone ciao 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 è la Horsetail Pole cos'è questa la? Horsetail è cosa di cavallo? un udo sembra un professionista professionista della telecamera vuoi vedere che riesci a rapiccarti su di lì? usa i tuoi artigli con il musco che c'è con il musco che c'è con il musco che c'è e un non e un ruolo ha chiesto il piatto è un ruolo è un ruolo e e e ma è una vista questa cascatella qua valsa la pena Tina è valsa la pena la scarpinata per andare a quella contanella lì molto bella molto bella